Nel 2015 ho ottenuto un workshop all'Udine 3D Forum su il mondo dell'economia, dell'economia e del render, quindi il mondo basato su quanto è il valore del nostro lavoro per il lavoro che dobbiamo andare a fare in digitale. Mi sono reso conto che nulla è cambiato, che dopo quel workshop anche nei forum trovo le stesse identiche problematiche. Ho deciso di realizzare un workshop mirato alla comunicazione, alla gestione delle risorse e al valore del proprio lavoro. Saranno solo tre incontri, due saranno dedicati dove io vi spiegherò quello che sono la mia personale opinione per poter gestire al meglio le risorse, per poter gestire al meglio il proprio tempo, il proprio lavoro, per poter creare una buona comunicazione, e quindi come poter crescere non soltanto come professionisti bravi nel fare il proprio lavoro, ma anche come professionisti bravi per cercare di generare del mercato, generare comunque del valore aggiuntivo. Perché ho notato che manca, manca nella computer grafica, manca in Italia, manca in generale qualcosa di questo tipo. Non esiste da nessuno a parte un corso come questo. Tutti vi faranno dei corsi per insegnarvi a renderizzare, per insegnarvi a creare modelli, per poter creare delle simulazioni perfette, ma mai nessuno otterrà un corso, finora non è mai successo, non l'ho mai visto in giro in Italia, un corso su come gestire le proprie risorse. Quindi un corso, potremmo chiamarlo quasi di gestione aziendale sul mondo del 3D. Questa è un'occasione abbastanza unica. Esistono tre tipologie di sit. Di queste tre tipologie di sit ci sono tre tipologie comunque di vantaggi differenti. Alcune sono gli early birds, quindi a un prezzo veramente minore rispetto al regular, e un altro invece è il premium. Il premium permette di avere anche dei contenuti che gli altri due sit non hanno. In questo workshop, se avete voglia, per il mese di gennaio e febbraio avremo tre incontri. Due, dove io vi darò la mia esperienza, basata anche dieci anni di lavoro come nel mondo del 3D, in tantissimi settori, da quello dell'ArcViz, a quello grafico, a quello web, a quello dei VFX, fino anche alla gestione volendo economica. Quindi anche grazie a esperienze come il responsabile ISO per un'azienda, oppure di esperienza di azienda vera e propria. Quindi io vi aspetto, vi aspetto numerosi. Fate in fretta perché gli early birds sono realmente pochi. Seguitemi sui video ai social. Se avete domande potete farmele privatamente. Quindi ci vediamo a gennaio.